bella a tutti ragazzi sono Mirko benvenuti su gameplay channel e su supermarket simulator allora ragazzi siamo pronti quindi apriamo subito subito il negozio abbiamo già ricevuto come al solito anche gli ordini online allora per quest'oggi ragazzi non ho messo nulla in sconto più che altro perché siamo sempre un po' a corto di soldi tolta la mod diciamo dei clienti aggiuntivi e fatto tutto l'ordine che dovevo fare adesso per rifornire tutto quanto ho speso circa 4.000 e passa dollari quindi sono rimasto con 5.400 che non è poco ma siccome volevo in previsione prendere la nuova licenza la nuova licenza costa 12.500 più dobbiamo calcolare ovviamente sempre di avere anche un bel po' di soldi da parte per riuscire a diciamo poi comprare tutto ciò che ci serve vediamo quindi lo store online se c'è qualcosa di interessante che ci può dare magari una mano qua c'è una marea di roba che mi richiede questo porca miseria c'è veramente una marea una marea di roba vabbè proviamo ad accettarlo vediamo se riusciamo a fare qualcosa allora la so da quello ok quindi no che cacchio ho detto che volevo aspetta oddio guardate non mi ricordo già più allora la soda ok le verdure il pane quello lì per cui vediamo allora un pane questo qua ok poi abbiamo detto vuole uno di questi e ok poi c'erano vabbè le verdure quella con l'etichetta bianca la soda quindi questa qua ok le verdure sono queste qua ok poi vuole le potato bag queste qua ok il miele dovrebbe essere no ah ecco tra l'altro mi avete detto giustamente grazie che non lo sapevo se sbagliamo prodotto col tasto sinistro lo rimettiamo a posto quindi ottima cosa anche questa allora voleva il whisky e va bene ma l'altro miele scusa io di miele ne ho solo una bi pazienza ah no è vero che scemo no no c'ho l'altro dove dove cacchio sta ma devo ricordarmi dove ma scusami è l'altro miele dove che stava un miele ce l'ho qua ma io dovrei avere solo questo vabbè pulp soda qual è pulp soda dovrebbe essere una di questa credo sì ok questo è giusto e anonibins i cereali perfetto quindi vediamo se riusciamo a far sordine perché insomma ci dà un bel po di soldarelli poi il pablo sugar qua credo sia questo no forse questo no perfetto lo troverò prima o poi eccolo qua pablo sugar è questo te lo ha messo il pablo sugar sì ok poi cos'è che vuole lo sugar quell'altro sarà questo no questo no questo no e quale che acchio di zucchero era questo qua perfetto ah e poi le tavolette quelle della lavastoviglie che erano queste qua perfetto well done ok quindi possiamo andarlo a spedire tac e te voilà ottimo dai così qualche soldino almeno con gli ordini online riusciamo a fare ammazza che bordello ah ma io c'ho la cassa aperta ma che pirla mica me ne ero accorto ero convinto di averla chiusa ragazzi non me ne ero assolutamente accorto non me ne ero assolutamente accorto questi sono qua in coda da mezz'ora mannaggia la miseria vabbè vabbè pazienza scusi signorina non l'avevo vista abbia pazienza che dobbiamo fare che dobbiamo fare allora questo ha preso solo sta cosa quindi vuoi 45 tie vai con dio ammazza questo quanto whisky os due bricare stasera porcaccia la miseria alla 39 e 70 quindi 39 ok 50 e 70 vai e poi devo chiudere la cassa ragazzi perché volevo anche vedere di fare qualche ordine online così magari qualche insomma 100 centello extra me lo me lo riesco anche a fare allora 165 30 vedo un bel movimento comunque nonostante diciamo nell'ultimo gameplay abbiamo fatto decisamente meno clienti invece quest'oggi vedo veramente un bel movimento quindi speriamo che insomma si faccia effettivamente qualche soldino allora chiudi la cassa tanto un po di clienti comunque li abbiamo fatti anche oggi vediamo se ho qualche altro ordine che ci porta un po di soldarelli quello 130 farei quelli lì farei quelli lì da 130 sono anche più lunghi da preparare ovviamente perché sono quelli insomma che richiedono più cose però secondo me ne valgono la pena quindi vediamo questo sia anche questo chiede un bel po di roba però direi di accettarlo dai allora quindi crab si sono i granchi poi la birra quello lì il moussac allora vediamo se troviamo tutto perché qua allora uno dovrebbe essere questo giusto in teoria sì poi vuoi abbiamo detto il moussac che dove cacchio stava era qua da qualche parte dove cavolo l'avevo messo dov'è che stava ma scusami no era uno di questi per forza per forza era uno di questi a capire qua eccolo qua sotto ok quindi quello l'abbiamo fatto poi le potato bug sono qua la zap soda e quella lì questo me lo ricordo poi la ropico soda quale cacchio sarà mo non ne ho la più pallida idea sarà questa sì incredibilmente era questa ok poi vuole il vinello tech quindi andiamo prendergli il vinello questo qua poi le tavolette per la queste qua per la lavastoviglie a due di moussac ne volevi pardon non avevo visto quindi ridammi porca miseria do mettere do mettere le luci devo mettere le luci allora il crab stick e noi ancora uno ok non avevo visto dove stavano il crab stick dovrebbero essere questi ok poi la birra bionda ale va bene quindi dovrebbe essere quale cacchio era questa si presa stranissimo il cake allora dovrebbe essere la torta questa qua ok b e k am che cacchio è il b e k am oddio questo non so assolutamente che diamine sia no non è quel che cacchio è il b e k am scusami non ne ho veramente la più pallida idea se no glielo do così non so cosa sia ragazzi perché qua non posso purtroppo andare a scorrere l'ordine ma non so assolutamente cosa sia vabbè io glielo do così qualche soldo comunque lo facciamo e via sì mi toglie anche punti esperienza se sbagliamo effettivamente però però vabbè pazienza pazienza allora quindi vediamo un attimo cosa che era poi sto coso scusami è a era il porca miseria lì il prosciutto era vaffan bagno e vabbè non lo sapevo non lo sapevo vabbè vediamo se riusciamo a fare anche questo magari anche questo vuole un sacco di cosa adesso so qual è ok quindi direi che lo accettiamo questo vuole la vodka vuole la birra vuole un sacco di roba quindi allora la vodka ok allora b e k am dovrebbe essere il prosciutto credo questo sì perfettissimo poi vuole l'olio ed era questo ok vuole la pizza la pizza cedar dove cacchio sta la pizza cedar era qualche cedar questa sì perfetto poi il whisky benissimo così poi la daron dovrebbe essere la birra credo non ho idea di quale sia assolutamente no sì era questa perfetto la jujitsu soda lì insomma quella lì e cacchio sarà sarà una di queste per forza questa no questa no questa sì perfetto vabbè tanto si va diciamo per tentativi a esclusione allora la scream anche qua il bomb back lì eccoli qua perfetto e poi ne vuole due ok ha un altro ma quanti ne vuoi scusami non ho capito a no le candy ok sono le caramelle quindi sono queste qua e ne vuoi due ok sugar light brown è questo no assolutamente no no perfetto ok era questo benissimo un altro sugar dovrebbe essere questo ok poi vuole le uova quelle da quattro cioè ci metto sei anni a fare gli ordini lo so ragazzi ma purtroppo che devo fa e poi l'altra birrozza bionda che era questo no era questa no era questa no qualche cacchio e scusami fest beer blonde ale è giusto però non vuoi questo qual è che vuoi scusami di birra al fusto forse sì forse mi sa che vuole a no che cacchio però se ti metti in mezzo a no ora questa che vuole no questa no il fusto no o era questo alleluia ce l'abbia fatta le ho prese tutte prima o poi quella giusta la trovo o la perfetto dai allora siamo riusciti comunque a guadagnare tanto devo dire se ogni tanto si sentono dei suoni vero mi avete scritto che si sentono dei suoni che non si erano mai sentiti effettivamente i suoni sono dati credo dalla mod questa che ampile il magazzino penso che abbiano aggiunto qualche suono qualche suono extra diciamo poi invece mi avete detto della cassa dei colori sbiaditi ma io non noto differenze francamente quindi sulla cassa non lo so sui suoni sì effettivamente avete ragione me ne sono accorto per l'appunto giocando off camera va bene allora vediamo comunque come è andata questa giornata direi che è andata piuttosto bene abbiamo fatto 12.700 quindi non è assolutamente male infatti abbiamo fatto un totale di 85 clienti quindi veramente veramente tanti zero errori nel senso prodotti li hanno trovati tutti nessuno troppo costoso resti giusti questa volta quelli che ho fatto io quindi ottimo ottimo così allora per cui direi magari di farci insieme un'altra giornatina così al volo in modo da essere pronti poi a sto punto nel prossimo episodio a prendere finalmente la nuova nonché ultima licenza almeno per il mio livello attuale sono livello 58 così almeno la prossima volta possiamo diciamo sistemare tutte le varie cose nuove che ci servono quindi prendiamo intanto un po di roba cerco di prendere sempre solo quello che manca chiaramente spenderò un sacco perché adesso comunque prodotti ne abbiamo veramente veramente tanti di conseguenza purtroppo devo no aspetta il sushi no perché lo devo mettere via che ce l'ho di là ok ce l'ho poggiato per terra perché non mi ci stava quindi sushi ne ho ancora e allora fusti di birra sì questo sì l'hummus sì le patatine direi di prenderne almeno due questo questo ok candeggina per forza due perché siamo praticamente a zero anche in negozio questa questo ok la carta igienica sì questo qua per forza questa anche questa anche questo anche e poi adesso ragazzi aumento un po la velocità del gioco così almeno i miei sistemano tutto in maniera decisamente più rapida 2000 passa abbiamo speso quindi siamo già scese 10mila però direi che ci sta allora fatemi sistemare solo le scatole che ho qua a terra così almeno no niente uova non posso sistemarle queste neanche perché già pieno queste mi ci staranno vediamo se vuota no assolutamente mai nella vita perfetto allora invece il sushi lo posso mettere ce n'è ancora sì di sushi ce n'è ancora quindi non posso tirarla via questa ce n'è ancora forse no alle lui almeno una scatola me la tiro via dalle balle e vinello anche qua purtroppo ce n'è ancora allora mettiamo un 10 per così almeno i miei come vedete alla velocità della luce sistemano tutte le cose che devono sistemare così do un'ultima occhiata velocissima al mercato per vedere intanto che hanno sistemato se manca ancora qualcosa scusate vado all'uscita così vedo quando hanno finito se riesco a uscire non uscirò mai più da qua perché oddio che ecco ok scusate ma comanda anche il mio personaggio ovviamente va a 10 per quindi diventa abbastanza difficile riuscire a a comandarlo quando è così però questa moda è veramente veramente comoda perché guardate quanto stanno lavorando i miei nonostante ma quello si è buggato che cosa nonostante siano a 10 per insomma ci impiegano veramente veramente un sacco di tempo a sistemare tutto e figuratevi se fossero alla velocità normale cioè sarebbe stato veramente a no che mi sa che saranno buggati un attimo con la velocità 10 per infatti sì ogni tanto può succedere che magari essendo troppo veloci diciamo si buggino e quindi va bene vi basta abbassare un attimino la velocità e rialzarla e si si sbaggano subito va bene va bene dai sistemate tutto cioè guardate quanto cacchio ci stanno impiegando come detto e sono a 10 per di velocità pensate se fossero stati a velocità normale ci avrebbero messo come detto minimo minimo 20 minuti e mezz'ora di tempo reale ok adesso hanno finito perché vedete si posizionano tutti qua quindi siamo a posto perfetto diamo solo un occhio che effettivamente non manchi nulla vabbè vino sta roba qua posso anche aspettare magari prenderei giusto due cose di queste va bene prendiamo anche due cose di queste qua che possono sempre servire candeggina vabbè la prendiamo perché ne abbiamo veramente poca magari anche un altro di riso la vodka posso anche aspettare un attimo di questo ne abbiamo perché sugli scatoloni grossi magari prendiamo una salsa piccante le cotolette sì sushi grande no perché ce l'ho vabbè dai direi che direi che siamo anche messi piuttosto bene magari una giusto di patate una di patatine cereali sì magari pollo ne prendere ancora una tanto il posto dovrei averlo in teoria candeggina questa comunque ne abbiamo prendiamo ancora un po di roba e così almeno abbiamo il magazzino pieno e sono sono tranquillo insomma che non mi finisce niente durante la giornata perché se poi devo fare gli ordini online chiaramente non ho tempo di star lì a a vedere cosa manca insomma così almeno loro hanno tutto quello che gli serve per rifornire man mano che finisce la roba ok dai altri 1.400 direi che direi che siamo a posto abbiamo chiuso comunque con 9.220 che non è male perché comunque madonna patatine quante ne avevo marò quante ne avevo non mi ricordavo più di averne così tante allora questa vabbè è finita ok questa la mettiamo qua ok e vabbè patatine per un po non ne prendo perché non mi ricordavo più di averle per terra porca miseria vabbè fa niente dai tanto tanto bene o male le patatine vanno ok dai allora apriamo ancora un attimo il negozio così vediamo di fare un attimo la giornata insieme così vediamo come andrà anche quest'oggi anche per avere un attimo un paragone come numero di clienti rispetto alla giornata precedente che è andata benissimo perché abbiamo fatto 85 clienti quindi direi che è andata veramente veramente bene allora ok questo vuole un po di roba vabbè accettiamola non me l'ha accettata no non me l'ha accettata vediamo se non si è buggata la moda no ok adesso me l'ha accettata perfetto perfetto allora questo vuole le scaloppine al gratin perché io ho delle scaloppine al gratin quando è successa sì questo ok non sapevo assolutamente fossero scaloppine al gratin ma manco ma manco per il cacchio ok poi vuole il latte quale sarà adesso questo perfetto sì perfetto poi il vc qual è adesso quello del vc scusami sarà questa sì ottimo poi un cleaner che dovrebbe essere questo perfetto poi vuole le french fries quindi patatine fritte che sono che sono di qua perfetto poi le potato pops potato pops dovrebbero essere i sacchetti patatine questi qua questi sono le chip pops a vabbè sono queste ok quindi voleva anche queste male potato pops no non sono queste qualche cacchio sono le potato ma il sacchetto questo no oddio mi sono perso una cosa di patatine scusa vabbè poi adesso vediamo se le trovo da qualche parte poi vuole comunque una cosa di ketchup e non vedo un cacchio se ma porca miseria ok poi vuole la cartigenica questa perfetto vuole dell'olio che sarà o questo quell'altro è infatti quell'altro giustamente va bene rimangono queste cacchio del potato pops che non so cosa siano potato vabbè so patate ma queste non sono queste neanche e io altre patate però non mi parla a meno che non siano qua delle patate ma non mi pare di avere patate di altro tipo qua a forse queste a eccoli qua ok perfetto sì io pensavo fossero tipo olive a scolane quelle lì invece invece so patate va bene va bene comunque l'ordine ce l'abbiamo fatta a farlo correttamente perfetto sì sentite i rumori di cose che sbattono e penso sia questa mod qua che ingrandisce il magazzino che mi ha dato questi suoni aggiuntivi perché effettivamente prima non non c'erano quindi questo tipo di rumori dipende dipende da quelli lì va bene allora anche lui vuole un po' di roba perfetto quindi niente di qua non me lo accetta più c'è ancora un po' di bug sta mod e devo vedere se hanno fatto poi qualche aggiornamento perché effettivamente non lo so no ah no che cacchio sto facendo allora il pepe è questo perfetto poi vuole la soda questa strana che sarà una di queste non so quale è questa perfetto e poi vuole la birra quella nella confezione da sei dovrebbe essere questa perfetto eh oddio si è rimasta un po' baggata ma fa niente eh vegy mix quindi verdure miste e eh questa qua perfetto eh poi eh l'ice cream vanilla eh quale cacchio è il gelato alla vaniglia chi se lo ricorda questo dovrebbe essere oddio ok si è parecchio baggata ancora questa mod eh va bene poi vuole il cleaner questo qua sto a fare la torre di pisa sto facendo il giocogliere ragazzi va bene eh vuole letta volette boom boom qua no non sono queste che cacchio ho preso cos'è che ho preso la la birra bionda come ho fatto a prendere la birra bionda scusami eh no non sto capendo com'è che ho fatto a prendere la birra bionda da qua che ero là vabbè eh non ci facciamo troppe domande io non sto quasi più vedendo nulla con sto cacchio di di coso eh prendiamo il salmone e eh run point oddio mo che cacchio è sto run point madonna non lo so un pastri non ho idea di che cosa sia ragazzi non ne ho la più pallida idea sarà questo? no? no? eh sarà qualcosa di questi nuovi immagino perché eh boh non ne ho veramente la più pallida idea no questo è chicken che cacchio è il run point vabbè senti se no glielo do così non ho idea di che cosa sia ragazzi credetemi non ne ho la più pallida idea vabbè senti te lo do così anche perché non sto a vedere un cacchio di niente quindi quindi è un casino eh non so che cos'era vabbè questa adesso non me lo dà più mi sa no? vabbè non ho capito cos'è che era vediamo un po' se c'è qualcosa qua del che me lo ridà uguale ah il moussaka ma non c'era scritto moussaka però run point sarà sempre qualche prodotto di questi secondo me secondo me sarà qualche prodotto di quelli lì mi sa vabbè comunque non è un gran problema vabbè ti toglie qualche punto esperienza sì se si riesce ovviamente a fare tutto corretto è meglio è chiaro però però vabbè uh 141 questo 141 direi di accettarlo assolutamente ah è questo un pastry run point vedi cos'è eh sì è sta roba qua ho capito qual è ok e perché il casino è quello che comunque non dandoti eh cioè diciamo mettendosi mettendoti solo i nomi io mo non è che me li sto a ricorda tutti sinceramente i nomi dei prodotti mi baso sulle figure basta perché eh non è che mi ricordo mi ricordo tutto eh allora poi vuole le boom eh milk da 6 e questo qua ok poi tanti prodotti me li ricordo tanti altri no ovviamente eh la carta d'accesso è questa qua la birra bionda eh nel fusto dovrebbe essere questa se me la fai prendere grazie ok poi vuole il riso basmati il riso dove che l'avevo messo qua perfetto eh il tonno il tonno ce l'abbiamo qua ottimo poi le gallette porca miseria la luce mi dimentico tutte le volte mannaggia me allora eh dovrebbero essere queste sì perfetto poi vuole bottigliozzo di vodka sarà questa sì eh rompoint eccolo qua dovrebbe essere credo questo perfetto poi gelato alla vaniglia eh no dove cacchio sta no questo è il maxi bon lì il maxi con dove cacchio è il gelato alla vaniglia qua perfetto e manca solo la soda jujitsu lì quel che l'è che dovrebbe essere no perfetto era questa qua oh dai ordine fatto tutto correttamente ci sto prendendo la mano devo dire con gli ordini con gli ordini online all'inizio è stato abbastanza incasinato eh no non vorrei che i suoni però perché me li da quando mando l'ordine online quindi mi sa che i suoni sono dati dalla moda degli ordini online secondo me perché adesso ci ho fatto caso che i suoni effettivamente ci sono sempre quando spedisco comunque quando sto lavorando sugli ordini online quindi credo che quei suoni siano dati per l'appunto da da questa mod che sono insomma i suoni del furgoncino che arriva chiude insomma che porta via la roba fondamentalmente credo siano riferiti a quello ecco comunque devo dire molto bellina la mod perché insomma ci dà possibilità come detto di variare un attimino anche il gameplay occupandoci per l'appunto degli ordini online quindi vi fa andare in giro mettere i prodotti insomma è anche un modo per comunque abituarsi a conoscere un po' i prodotti che si vendono anche questo comunque non è una cosa una cosa negativa anzi mi diverto un sacco a fare gli ordini online sinceramente anche perché poi vabbè all'inizio è un po' incasinato perché se siete come me che non è vi ricordate i nomi proprio dei prodotti perché a sinistra in alto vi viene fuori la lista ma non vi mette l'icona del prodotto quella ve la mette solo sul computer però poi il computer non vi fa scorrere quindi se c'è un ordine lungo con tanti prodotti comunque o ve li dovete ricordare tutti a memoria o dovete necessariamente imparare a riconoscerli appunto dal nome specifico del prodotto quindi anche questa è una cosa comunque secondo me molto carina però poi ci si prende subito la mano e quindi insomma si riescono a fare anche parecchi ordini giornaliere calcolando che comunque ogni ordine ci da anche magari 140-150 dollari non è assolutamente male perché insomma alla fine riuscite a portarvi a casa tranquillamente anche 1000-2000 dollari in più al giorno grazie agli ordini online poi dipende ovviamente quanto siete veloci a inscatolare la roba perfetto allora abbiamo finito anche questa giornata quindi vediamo un attimino quanto abbiamo fatto oggi meno no in realtà uno in più addirittura 86 clienti ottimo sempre nessun problema riscontrato né nei prezzi né nei resti né tantomeno nei prodotti non trovati quindi ottimo perché comunque vabbè con questa organizzazione diciamo del supermercato e del magazzino riesco tranquillamente a star dietro e anche i miei magazzinieri riescono a star dietro comunque a 86 clienti e non è male perché insomma comunque anche 86 clienti non sono pochi e ti svuotano il negozio mica da ridere però comunque riescono tranquillamente a rifornire il tutto chiaro non sono i 120 130 clienti della moda ma già 85 comunque ti fanno guadagnare insomma cifre di tutto rispetto quindi visto che adesso abbiamo chiuso con 17000 071.93 sicuramente nel prossimo episodio riusciremo per l'appunto a prendere l'ultima licenza quanto meno l'ultima come detto per il nostro livello e poi dovrò però salire e lì sarà un po' lunga ragazzi perché dovrò salire fino a livello 70 per le prossime tre licenze il problema è che sono a livello 58 quindi ce n'è un bel po' di lavoro da fare ce n'è veramente veramente tanto per cui adesso vedo un attimino a sto punto valuto se rimettere la moda dei clienti o se invece andare tranquilli così fino a che non arriviamo per l'appunto a livello 70 e che come detto sono 12 livelli da fare non è sicuramente poco potrei pensare magari nel frattempo comunque di ingrandirmi ulteriormente però il problema è che l'ingrandimento come vedete ci costa 24006 quindi anche questa è una gran bella legnata riuscire ad arrivare a 24006 in questo caso anche senza la moda dei clienti pur facendone insomma un'ottantina 80 secoli che sono al giorno si fa parecchia fatica cioè ci si impiega veramente parecchio parecchio tempo vabbè comunque adesso penso un attimino a come gestire i prossimi gameplay anche sulla base ovviamente di quello che mi direte qua sotto nei commenti detto questo ragazzi quindi io vi invito anche quest'oggi a sostenere questa serie mi raccomando perché non vi costa nulla quindi spolliciate lasciate un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube moltaseno grazie di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay ciao belli